La Val di Chiana torna a registrare un caso di coronavirus dopo che ad inizio giugno era stata dichiarata Covid-free dai primi cittadini. Ad annunciarlo tramite social, direttamente dalla pagina Facebook del comune di Fogliano della Chiana, è stato il primo cittadino Francesco Sonnati. Si tratta di un bambino di tre anni, risultato adesso positivo al Covid-19. L'Asla si è già attivata per individuare i contatti stretti del piccolo. A richiedere il tampone era stato il pediatra dopo che il bambino aveva presentato alcuni sintomi legati a questa patologia. Attualmente nell'intera area vasta sono così in tutto 43 i casi in carico all'azienda sanitaria, 1370 invece i guariti nelle ultime 24 ore, infine sono stati effettuati 527 tamponi.